Alberghi vuoti case piene è la filosofia del Comune dell'Aquila al quale da un mese sono state trasferite le competenze per quanto riguarda l'assistenza alla popolazione terremotata fino ad allora in capo alla SGE. A giorni l'ente emanerà una ordinanza sindacale per la razionalizzazione delle forme assistenziali che consenta di risparmiare senza infrangere i diritti degli sfollati. Il cambio di rotta comporterà anche il trasferimento di qualche decina di famiglie. Molti single vivono in case più grandi rispetto alle loro esigenze, sono circa 100 e d'altra parte è stato voluto da noi per riportarli all'Aquila dargli quella sistemazione. Adesso che cosa faremo? Faremo uno spostamento, una razionalizzazione tra i nuclei compressi che sono quindi magari il nucleo di 4 persone con una sola camera da letto, verrà spostato in alloggi più grandi. Quindi i single che hanno alloggi troppo grandi rispetto alle loro esigenze verranno spostati, magari fermo restando che si tenterà in maniera consensuale una soluzione dello stesso progetto case dove adesso sono allogati, di spostarli in un alloggio più piccolo adeguato alle loro esigenze. Il comune insomma vuol farsi trovare preparato all'appuntamento di fine marzo con il governo quando Palazzo Chigi chiede racconto alla governance locale del cambio di rotta nella gestione delle risorse e il risparmio è la precondizione per ottenere da Roma nuove risorse dopo che con il suo insediamento il premier Mario Monti per il 2012 non aveva concesso ulteriori fondi oltre i 30 milioni di euro previsti dalla legge sul terremoto sufficienti appena per i primi tre mesi dell'anno.